Fra i quattro elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, è nel primo che vanno ricercate le origini di Bagnaia, situata nel Viterbese sul tratto della via Francigena che attraversa i Monti Cimini. Alcuni archeologi asseriscono che il territorio è stato chiamato così per le abbondanti acque che interessano quell'area. Nonostante le numerose ricerche effettuate, ancora oggi non ci è dato sapere da dove venivano i primitivi abitanti di Bagnaia. Pertanto le sue origini rimangono a volte nel mistero.